Il noto stilista Tom Ford è presentato al Festival di Venezia la sua opera prima, A Single Man, interpretato da attore e ha meritatamente vinto la Coppa Volpe. In questo caso una famiglia molto conservatore non invita uno non sposato e potrebbe trasferirlo tutto in una storia fra etro e sessuale. Questa era la grande sfida del film, non baciare Giuliano. Grazie a tutti.